Bene signori, è arrivato il momento di presentare degli ospiti importanti che abbiamo voluto chiamare questa sera per dare un po' di sostanza a questo show. Loro sono dei maghi internazionali e quindi li accogliamo sul palco! Mago! Magia! Il Mago! È un onore avere qui degli ospiti di cessione, di prestigio, o meglio dei prestigiatori. Un applauso ai Re Maghi! Ciao, danke, danke. Salve a tutti, siamo arrivati qui per farvi vedere nostra magia. Io, venire da grande paese di Germania. Bravo! Buongiorno, buongiorno, buonasera. Si presenti, quindi si presenti? Sono Mago Berlino! Grande Mago! Grande! Ma non c'erano quelli seri che dovevano venire. E loro chi sono? E loro, ho già visto i miei collaboratori, gli altri due maghi. Ad esempio abbiamo questo qui che viene da grande paese di Russia. Vedete come è russa? Fammi la montagna russa? Insalata russa? Clemente russo? Hai visto? Perfetto! 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 E mi scusi, come si chiamerebbe lui? Mago Cremlino! Sì, e poi ha potuto vedere anche altro soggetto qui, vestito un po' così diciamo, per la serata. Lui viene da paese di Creta. E sentiamo un po' come si chiamerebbe lui? Come mi chiamo? Mago Cremlino! E andiamo! Mago Cremlino! Grazie! Danke! Oggi noi essere arrivati qui per mostrare a voi il trucco che solo pochi maghi sono riusciti a fare prima d'ora. Ad esempio, Mago Dynamo, no! Mago Forest, non mi parla! Mago Udi, nì! Bravo! Ma io oggi ce la farò! Per farlo, io mi diletterò nella telepatia, detta anche lettura del pensiero. Ora, io chiederò a Damiano di darmi una mano. Damiano, dare mano, capito? Mi dà mano a... Simpatico lui! Per fortuna non ha fatto la battuta con Anno, perché questa avrebbe... Esatto! Ora, Damiano sceglierà una mano, o la sinistra o la mano destra, e io trasmetterò informazione a nostro aiutante, Mago Cretino! Bravo Mago Cretino! Esatto! Esatto! Quindi, Damiano... Aspetta che copro... Coprilo per correttezza... Tu guarda a me! Damiano, scegli una mano... Questa, quindi... Guardate bene, ha scelto questa mano qua... Perfetto! Prego! Attenzione! Mago Cretino, la mano scelta da Damiano, nostro presentatore, è la destra o la sinistra? La sinistra... Concentrati meglio... La mano destra! Bravo! 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 Numero riuscito! Bravo! Due tentativi, perché sei tre al terzo, al secondo eh! Bravissimo, guarda... Secondo! Incredibile direi! Adesso, Mago Berlino, faccio trucco di Russia! Trucco di Russia, attenzione! Adesso chiedo al nostro presentatore numero, e il nostro Mago Cretino indovinerà battendo tante volte le mani quanto numero pensato da Damiano! Fammi parlare con Damiano, per favore! Si, non si capisce molto perché è russo... Non guardare! Fai vedere il numero che scegli al pubblico! Avete capito tutti? Avete visto il numero? Posso girare? Si, girati! Allora, stai pronto? Attenzione! Vai! Grande! Mago Cretino! Grande! Hai dominato un'altra borsa! Grazie! Mago Cretino! Hai dominato un'altra borsa! Grazie! Non so che dire, non so da dove sono usciti questi qua, io giuro non sono responsabile! Grazie! Grazie!